Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Michele vorreste iniziare a pilotare un drone racing FPV ma non sapete da dove iniziare avete paura magari di romperlo subito perché è molto Delicato oppure non avete idea su quale drone comprare quale radiocomando abbinarli quale visore FPV andare poi a comprare a parte beh ragazzi non preoccupatevi perché sul mercato è presente un drone FPV racing entry level adatto per iniziare per i principianti Completo di tutto che vi arriva in questa confezione e si chiama i max tiny Oh non fatevi ingannare delle apparenze ragazzi si tratta di un drone fpv con motori brushless Davvero davvero molto molto interessante che una volta comprato della sua versione kit comprende già tutto il necessario per volare Sin da subito quindi senza perdere la testa nel bindare il drone al radiocomando senza dover cercare in cina delle batterie Compatibili con il visore che magari è senza batterie incorporate beh ragazzi con questo volate in un attimo vi dico subito il prezzo circa 150 euro nella sua versione completa che poi diminuiscono con le offerte ai nostri coupon che trovate nel nostro canale telegram linkato qui sotto in descrizione video ora direi di andare a vedere più nel dettaglio Cosa contiene questa bella confezione realizzata con una texture simil carbonio ma no non è carbonio ovviamente ma È molto resistente lo stesso e al suo interno troviamo tutto l'occorrente per volare sin da subito Partendo dal radiocomando che sembra quasi il joypad della playstation Ma è comunque ergonomico è ben fatto stick di controllo un po' atipici però con un buon grip è una buona resistenza Trimmer per regolare la deriva del drone tasto di accensione centrale con tanto di red di notifica Ingresso micro usb per la ricarica antenna sulla parte superiore e due switch Ma quanto è bello il rumore degli switch ragazzi potrei stare così tutta la giornata Ma li romperei lo switch di sinistra sulla prima posizione è spento sulla seconda posizione Si connette al drone e sulla terza posizione arma i motori attenzione però perché se siamo sulla terza posizione Ma lo stick del gas è posizionato non a zero quindi in alto per sicurezza Il radiocomando non andrà ad armare i motori per armare i motori dovremmo tenere il gas a Zero e portare lo switch sulla terza posizione invece lo switch di destra permette di impostare la modalità di volo La prima posizione è la modalità angle in cui il drone sarà sempre Stabilizzato come un normale drone senza gps e senza Barometro questa modalità è utile magari nei primi voli per controllare che tutto funzioni per il meglio ma cercate di non Utilizzarla troppo spesso perché oltre ad essere limitata non vi permette di capire appieno come pilotare un drone racing Infatti già dalla seconda posizione dello switch tutto cambia con la modalità horizon che permette già di effettuare flip e acrobazie Invece la terza posizione è la acro con controllo totalmente Manuale del drone è molto difficile all'inizio ma se riuscite a padroneggiare questa modalità di volo Credetemi sarà una passeggiata puoi passare ad un racing più professionale Il radiocomando presenta in dotazione già inserita una batteria ricaricabile da 1800 miliampere 3.7 volt che come vi ho fatto vedere poco fa si ricarica tramite la comoda micro usb passiamo ora al visore Imax piccolino ma ben fatto con la doppia antenna a sinistra e destra troviamo un comando per avvicinare e allontanare il display dai nostri occhi mentre nella parte superiore abbiamo dei tasti per regolare magari la luminosità il contrasto o il colore Ovviamente si tratta di un visore fpv Economico però è comunque ben fatto anche migliore di altri visori più costosi che ho provato in Passato il display è bello grande e ben definito ottimi colori buona luminosità inoltre c'è una piccola ma gradita Chicca che gradirei fosse implementata anche su altri visori più costosi ma anche su visori di realtà virtuale Ovvero la ventolina apposta nella parte superiore del visore che aspira l'area dalla parte interna Davanti ai nostri occhi questo consente di evitare l'appannamento degli occhiali della lente dello schermo e di ridurre al minimo anche pericoli di nausea che potrebbero esserci verso le persone che non sono abituate ad utilizzare un visore Inoltre il visore è molto ben bilanciato essendo che la batteria va connessa nella parte posteriore Se devo trovare un difetto posso dire che la parte anteriore in cui vanno messi gli occhi gli occhiali Non è molto grande quindi se avete degli occhiali abbastanza larghi come i miei non sarà facile andarli ad inserire bene Dentro al visore che comunque è molto morbido qui è tutto imbottito però poteva essere più grande L'apertura la parte anteriore comunque anche in questo caso troviamo una batteria incorporata da 1.800 miliampere 3.7 volt da ricaricare tramite la micro usb è una volta connessa al drone la visuale è sempre Pulita è ben leggibile poi abbiamo più manuali di istruzioni la guida rapida il manuale Completo e anche quattro eliche di ricambio che credetemi non cambierete Praticamente mai perché distruggere queste eliche a differenza di altri droni racing che sono molto più esposti come questo mantis 85 che io recensito in estate è davvero Difficile perché il drone è protetto da questa plastica molto robusta da tutte le parti quindi è quasi impossibile rovinare o scheggiare L'eriche che comunque vengono fornite in dotazione per farvi un esempio ragazzi io ho fatto già oltre 30 voli L'ho fatto sbattere tante volte anche tra poco vedrete che è caduto rovinosamente però non ho mai dovuto cambiare nessun componente è molto molto robusto è per chi inizia questa caratteristica è molto importante In dotazione poi abbiamo una basetta per ricaricare fino a sei batterie simultaneamente E può essere connessa tranquillamente anche ad una power bank molto carino l'effetto dei led verdi che Lampeggiano poi abbiamo il cavo usb micro usb per ricaricare radiocomando e visore un piccolo cacciavitino Con vitarelle per sostituire le eliche e anche uno spinotto di ricambio per connettere la batteria batteria del drone da 450 miliampere 4.35 volt che garantisce Circa 3 4 minuti di volo si è poco ma per un drone fpv racing è la norma in compenso Costano davvero poco con 10 euro circa ne comprate 3 o 4 vi lascio il link in descrizione video e infine abbiamo Il nostro piccolo drone il tini o che sembra un giocattolo ma in realtà è molto robusto costruito Molto bene con i cavi che passano in queste guide al lato dei motori la camera fpv è ben protetta e coperta E i motori come vedete sono installati in modo contrario rispetto a quello a cui siamo Abituati in questo modo sono molto sicuri molto ben protetti anche loro quindi non rischiate di rovinarli questo drone riesce ad arrivare Attorno ai 60 chilometri orari non è tantissimo però lo ripeto per iniziare ma più che bene Abbiamo già nelle plastiche del drone un fermo per la batteria che la tiene ben salda e non rischierete di perderla in volo Come può succedere con altri droni fpv e succede molto spesso credetemi il tini o con batteria installata pesa appena 41 grammi e spiccioli quindi potete utilizzarlo tranquillamente ovunque rientra perfettamente sotto il limite di 250 grammi e questa è tutta la dotazione davvero Completissima difficilmente riuscireste a trovare sul mercato un drone fpv Racing mettiamo le virgolette perché magari un purista del drone racer racing potrebbe avere qualcosa da dire ma è comunque un piccolo drone fpv Racing comunque una dotazione davvero completissima che non richiede di comprare praticamente Null'altro se non magari qualche batteria aggiuntiva per il drone le batterie invece del radiocomando e del visore Durano tantissimi voli quindi non preoccupatevi non serve comprarne altre di riserva Comunque se dopo un po di voli magari il visore originale che è buono ma magari dovesse risultarvi un po scomodo Oppure vi dovesse andare un po stretto beh potrete tranquillamente cambiare questo visore con Qualsiasi altro visore presente sul mercato a 5.8 gigahertz ora direi di provare in volo il tini o Connettiamolo al mio monitor 5.8 gigahertz che uso in questi test Armiamo i motori e buon volo Dovano Grazie a tutti Ok ragazzi beh come avete visto sono un po una schiappa nel volo fpv però questo è un drone che perdona davvero Tantissimo se siete delle schiappe come me o comunque dovete iniziare non sapete che drone usare per iniziare a volare in fpv Questo secondo me è una grandissima scelta costa decisamente poco nel suo kit completo a un ottima visuale fpv Sia al chiuso sia l'aperto è il range di controllo e attorno ai 150 metri che per un drone fpv va più che bene Aspetti particolarmente negativi di questo modello non ce ne sono magari avrei aggiunto una o due batterie in più alla versione completa Il kit pronto al volo fpv però costano pochi euro luna le batterie quindi non è un grosso problema In conclusione se cercate un buon drone racing fpv a basso costo economico per iniziare a volare in modo diverso dal solito drone fotografico Come può essere magari un mavic mini un film x8 un idrone 4k beh il piccolo imax tini o che secondo me è una scelta davvero Ottima e io nello straconsiglio Ricordate comunque che non si tratta di un drone fotografico non potete utilizzare questo piccolo drone per scattare foto o video La telecamerina è solo per la trasmissione video sul visore o su monitor esterni e ovviamente I motori non sono grandi non sono molto potenti e non potete pensare di andare a installare una gopro su questo dronino Riassumo se volete utilizzarlo per fare foto e video non fa per voi se invece volete un drone con cui divertirvi quei 45 minuti di autonomia se non comprate altre batterie beh il tini o che è perfetto Se volete acquistarlo ragazzi trovate tutti i link d'acquisto di questo interessante drone fpv Racing qui sotto in descrizioni video insieme ad eventuali coupon coupon che lo ricordo non sono eterni non so nemmeno se ora ce ne sono Nei disponibili comunque quando ce ne sono quando sono disponibili io li pubblico sempre Aggiornati sul mio canale telegram delle offerte che trovate linkato qui sotto in descrizioni video tech best deals Entrateci numerosi è sempre qui sotto ragazzi trovate anche il link per entrare nel nostro gruppo facebook droni e tecnologia italia Dove magari potrete condividere le vostre esperienze con questo drone o con altri droni e infine amici vi ricordo che tutti I nostri video le nostre live Le nostre prove recensioni anteprime sono totalmente Gratuite per voi lo saranno sempre ma se volete supportarci non vi chiediamo soldi non vi chiediamo abbonamenti Iscrizioni donati c'è scritto di sì donazioni no ci basta un semplice e gratuito like un commento una condivisione iscrivetevi se non l'avete già fatto Attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto se avete qualche domanda Su questo prodotto non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto io sono come sempre a vostra totale Disposizione beh direi che io vado a farmi un altro bel voletto con il mio Tini o che noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su adx su tech Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.